Ci colleghiamo con il nuovo direttore della Gazzetta dello Sport, Pier Vittorio Fentri. Buonasera dottor Pier Vittorio Fentri, come aprirete il giornale domani in edicola? Buonasera a lei e al suo programma Pollaio. Come mai avete delle galline che cinguettano in studio? Allora, parleremo del caso della settimana, si è parlato di Balotelli. E' o non è da nazionale, deve o non deve andare in Sudafrica. E allora abbiamo chiesto un'opinione al personaggio che più ha voce in capitolo a tal proposito. Cioè a Lippi quindi, all'allenatore da nazionale? No, no, Borghezio. Abbiamo chiesto un'opinione disinteressata a Borghezio, è incredibile, Borghezio ha detto sì a Balotelli in Sudafrica. E quindi ho preparato la prima pagina. Borghezio, sì a Balotelli in Sudafrica, ma per un safari. Con i leoni non ci si diverte più. E' il mio editoriale, il volto umano della Lega. Molto bene, molto bello, veramente. Ecco, io la odio sinceramente. Abbiamo dato qualcosa di più questa settimana. Va bene, salutiamo, ci ricolleghiamo dopo per la prossima prima pagina. Magari no. Allora, devo lanciare un canale.